beh la registro pure così vediamo un po gioca fammi fare color di utile color di utile che cazzo c'è chi dentro questo gioco quel che si è bloccato e non partiamo mica bene con un gioco da 70 carte activision non ce l'ho mica activision cazzo aspetta aspetta che mi registro con con un account activision buongiorno sciorina nina un attimo che mi registro ero pagato 70 euro quello con gli operatori è questo è quello con gli operatori un attimo che mi registro da activision allora email ok cazzo mi devo pure registrare per giocare e che palle e che palle ok registrazione account activision vediamo ci prego ok ok ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo eccoci qua controller fuoco mirino ok mi metto le cuffie è proprio preso la versione con gli operatori ha pagato 63 la versione con gli operatori se no costava questa 52 bo 50 solo che volevo la versione con gli operatori e e così è stato come chi è chi lo ha così queste vanno con uno e che chi è questa ah no così cuffie della corsair ovviamente ovviamente le cuffie della corsair non cazzo il volume in cuffia ok 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 l'aggiornamento di chi è vero io ah che palle oh che palle oh ci può giocare basta musica questa è una strada solo quella di gioco per inizio eccola 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 oh il volume va bene l'audio volume va tutto bene di utilizzare di utilizzare c e andiamo oh mmm recluta fatemi sapere se i volumi si sentono bene se è basso se è alto che cacchio succede a le palle perfetto perfetto signorina orca boia ah se fa saltare per l'audio salve sir davis carissimo oggi su code l'ho appena iniziato adesso orora orora è finita la carta igienica orca boia è incazzata musica vediamo se è bello se no torniamo subito su devil shunt watcher sono tutti fuori vai 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 orca madosca eh sono andati sono andati era il salvataggio che era corrotto porca miseria è infatti iniziato questo apposta perché non c'avevo voglia di iniziarlo subito di ricominciare devil shunt appena fatto perfetto da di vari via lì ecco 3 1 blue viking 5 attacco richiesto attendere conferma bersagli ricomincio 3 1 viking in attesa Grazie. Vediamo, vediamo un po', vediamo un po', anche a me non è che mi abbia mai fatto impassire, vediamo un po', questo qua mi ha detto che è stupendo, vediamo. Orca ma da osca, orca ma da osca. Cazzo. Io, boh, non sono un fan però mi è piaciuto da come mi ha raccontato la modalità online e non avendo mai giocato online con nessuno sembrava bella da fare. Sembra divertente, ho preso apposta perché anch'io Call of Duty hanno detto che questo qua è fenomenale, anche se uno non è fan hanno detto che questo qua è super. Ti sparo in testa a te. Allora. Perchè miseria. Au. Cazzo. Eh, ho visto gli occhi o le fiamme. Poca miseria. Oh. Ehi, avvicinati a un angolo. LT. Ah, ok. Dove cazzo sono? Sì, ma io devo capire dove cazzo sono questi. Oh, ancora dove cazzo sono? Ah. Cioè, io non ho visto neanche dove cazzo sono questi. Cambio cadenza di fuoco. Cambio cadenza di fuoco. Cazzo. Che cazzo. Oh, ma allora. Bastardo. Non, il caso andiamo... Ah, forque, eh, eh ? Do cazzo sono? Oh ma! Do cazzo! Non capisco da dove cazzo arrivano Cioè veramente Ma sparano solo quando vedono me Cazzo Adesso sono andato i coglioni eh Dio caro Gli sparo nelle gambe Cristo Gli sparo nelle gambe cazzo Gli sparo Gli sparo Gli sparo Gli sparo Gli sparo gli spavano le mani a questo porca puttana ma va fangulo mocca è sciopoda no questo qua no può anche andare vediamo un po porca puttana cristo cristo a faccia ducazzo che potenza del fuoco me butto io come un kamikaze io vado dentro come un kamikaze mettetela te la maschera porco a me non me frega niente del gas lo devo andare però me dite do cazzo aprite qua fatemi sto favore va che butto giù tutto porca puttana so incazzato come un ciambellino vado io vado io non vi preoccupate bastardo ma chi cazzo sta sparando fatemi capire chi cazzo sta eh ma fangulo oh così si gioca sto gioco cazzo oh oh porca miseria io ho aperto il culo di obono 3-1 3-1 3-1 barco fa soldato degli Svetlans abbiamo ucciso militari russi negativo per il comando la missione è prioritaria tutta scelta 3-1 giudo ok 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 eh mmm quindi quindi ah qui porca boia mi lasciano a piedi questi porchi questi porchi siamo in movimento verso il punto di importo massima allerta ottimo lavoro Alex è nata tutto l'incontro per te più buono più buono spengo i termini perché mi sto cucinando c'è mi sto cucinando cristo ciao mi sto cucinando mi sto cucinando qui Dio buono 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 le chiappe del culo guarda lì non potevo neanche fare la carretta al cane potevano dirlo guardo le chiappe di questo qui allora le chiappe del culo guarda lì le chiappe del culo porco io corro perché sono più fico orca miseria lo cazzo sta qui c'è una motoretta me lo deve da qua per farlo ah eccolo eh dicevo cazzo è lì beh come vuolto ma eh sì sa vita pure ho porca miseria la patata da combattimento questa orca miseria le chiappe del culo dio buono io volo hai capito oh che cazzo fanno cazzo ci sono andato davanti e basta ecchia ecchia a ah 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 ahah cazzo ma son più morto che vivo in sto gioco e come faccio a buttarli giù con una pistola scusami eh ah devo andare la si trovi delle guardie al di fuori in silenzio ritroviamoci qui aprile il video al massimo lui il piacere parigi in questa è un guarda filtri dell'olio adesso vado con questo voglio vedere filtri dell'olio degli sbatti intere chiappe filtri dell'olio mi stavano ammazzato i filtri dell'olio lukazzo è ah ah andiamo di qua a fare la prima muto cosa stia qua salve fecchio carissimo carissimo bu lukazzo ok e speriamo che che sia bello sto gioco l'avevo preso per giocare insieme anche però c'è anche gufo per fortuna perché io non è che sono proprio amante di di sto gioco qua ma eh e quindi le facciamo fuori ok le chiappe de culo guarda lì la cocchia sarà taric Do cazzo Ah Varlà che ho fatto bene a merdi qua Non avevo neanche visto dove cazzo era andata Questa Non avevo neanche visto dove cazzo era andata Non muove la testa Madonna Ueucca Sì Primo giorno su COD Prima ora Però mi stanno ammazzando sempre Mi stanno ammazzando sempre Cioè proprio sto morendo a raffica Uno perché faccio il cretino E due perché è difficile Lui cazzo è andata Oh Rinforzi dalla voce aerea Il piano sta funzionando Fermo La porta di Taric è aperta Dov'è Taric? È morto Non lascerebbe mai la sua portazione Andiamo Taric Sì sì è la storia È la storia Sì sì Però si sono già sovrapposti dei filmati Cioè roba che in un gioco da 70 euro Non devono esistere proprio Non devono esistere propriamente proprio Cioè I volumi van bene I volumi van bene Del gioco Ah guarda L'ho preso solo per l'online Perché mi aveva detto Fecchio che ce l'aveva lui Solo che poi l'ha venduto Gioco con un guffo fattone L'ho preso solo per l'online Praticamente 63 euro La versione con gli operatori Sì 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 da PC Che cazzo devo fare Cazzo devo fare Ma Come faccio a usarlo Ah ok E che lo dicono Cazzo con l'altra levetta Dai Salve dro No no sono da PC Ma beh che questo qua Tanto è crossplay Quindi possiamo giocarlo stesso Io non sono un fan di Call of Duty Vi dico la verità Non è che mi stia sfagiolando tantissimo L'ho preso per l'online Sperando che ci sia qualcuno che ce l'ha Perché mi aveva invitato un amico Solo che poi se l'ha venduto Non mi aveva detto che l'aveva venduto Io l'ho preso lo stesso Io l'ho preso credendo che c'era lui E vabbè Ho trovato il gufo fattone Da giocare E spero di trovare qualcun altro Anche perché io non ho mai giocato online E di Call of Duty Io sono il Ghost Speriamo Speriamo bene URSIKSTAN Oh che cazzo spada Non c'è nessuno Di camper Che camper Asciabata 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 Che cazzo è un'arma Che cazzo è un'arma Che cazzo è un'arma BOOM! Dio caro No questo no Che cazzo è che mi sta sparando Bastardi Quelli della torretta Bastardo Dove cazzo sono sti aerei Mi ha detto eri in volo Mi ha detto eri in volo Dove cazzo sono Avevo letto un'altra cosa Che inizia con la air Con la terra Porca miseria Avevo letto un'altra cosa Che inizia con la air Con la terra Dove cazzo sono Io adesso vado contro questo Che mi sta sui coglioni Cristo Che inizia con la terra No No Cazzo mi sono dimenticato come si saliva, cazzo, cazzo, bastardo, bastardo, con lo schermo rosso non ho capito se ero uno dei miei Pum! Dio Vano! 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 E infatti non si capisce il cazzo quando mi ferisco Dio Vano! Oh, cazzo Ma chi è? Oh, merda Oh, boia, merda Mi stavano passando di fianco Neanche l'ho visti Merda Cazzo, io mi butto dentro così Alla vecchia maniera proprio Mi butto dentro io Alla vecchia maniera Oh, che cazzo Adivo ragazzi C'è l'euro che Diete di rispondere il messaggio Non so neanche dove Qua c'è il telefono Che minchia vuole adesso questa Si, allora 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 Vediamo Ah, l'offerta dove è la tv No, no, no Allora 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 Andiamo avanti Allora Allora Adesso Devo rompere palle Anche quando sono in live Si, si Stanotte Oh Stanotte ci sono Si, si Stanotte ci sono Oh E quindi E quindi Sempre da mezzanotte in poi Da mezzanotte Che cazzo è successo Da mezzanotte in poi ci sono Oh Allora 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 No Chi la la porca puttana la 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 minchia se sono scarso in sti giochi la 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 oh adesso si rialzano come zombie che cazzo chi è che spara eh porca puttana lo sapevo io lo sapevo io dio buono perché le granate non me le tira me le tira sempre sui piedi me la tira sempre vicina me la tira sempre sui piedi io La 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 Ah eccolo Che c'è? 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 Che c'è?